Andiamo avanti a scoplo del video, il squadro del centro quando ho un testo, e quando rappresentate me lo del Semperini dove lavora a la... Ma stai nella città? Stai, dice del video? No, diciamo alla persona. Ma stai, dovete, dovete conoscere anche una vecchia? No, no, no. E qui mi viene, vedo i giorni. Allora, ci omaggiorai, il vicevolta del concorso, che ho conoscito un weekend per un postore al societato del Semperini, Bellario Sanmarino. Brava! E' becca di storia! 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 E' becca di storia!